Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Andrea di scommesse.commenti e recensioni.com e assieme a Michele Marcello vi regaliamo ogni settimana i nostri pronostici gratuiti sulle partite dei mondiali in Qatar 2022. Oggi infatti siamo qui per gli attavi di finale. Prima di cominciare vi ricordo delle cose importantissime, la prima è di mettere like a questo video e iscriversi al nostro canale, mentre la seconda cosa è quella di guardare il video fino alla fine per non perdervi tutti i nostri pronostici. Detto questo possiamo cominciare con la giornata di oggi. La prima partita è Giappone-Croazia. Da una parte troviamo il Giappone di Hajime Moriasu che ha vinto a sorpresa il gruppo E, battendo sia la Spagna che la Germania, con 6 punti frutto di 2 vittorie e una sconfitta. Al momento hanno siglato 4 reti e ne ha subite 3. Dall'altra parte invece troviamo la Croazia guidata da Slat Godalic che è arrivata secondo nel gruppo F grazie alla vittoria e 2 pareggi, frutto di 4 gol fatti e uno solo subito. Possiamo notare subito che i nipponici prendono in media un gol a partita, mentre i croati si sono dimostrati molto solidi con una sola rete subita. Entrambe le compagini hanno segnato 4 gol in 3 partite. Per quanto riguarda le quote del passaggio del turno tra Giappone e Croazia abbiamo Quota per il Giappone che sta a 2,60 e per la Croazia a 1,50. I croati sono favoriti per il passaggio del turno con una probabilità stimata da SNAI di passaggio ai quarti del 66,67% contro il 38,46% del Giappone. Il nostro pronostico sul passaggio del turno tra Giappone e Croazia sta sulla Croazia. A seguire per le quote 1x2 abbiamo Giappone vincente a 3,90, pareggio a 3,20 e Croazia vincente a 2,10. Il nostro pronostico sulla lavagna 1x2 di Giappone e Croazia sta sull'X2, ovvero doppia chance pareggio o vittoria Croazia piazzata a 1,24. Per quanto riguarda invece i risultati esatti, analizzando attentamente due compagini e le quotazioni sul mercato del risultato esatto di SNAI abbiamo deciso di puntare su queste tre possibilità 0,1 pagato 6,50, 1 a 1 pagato 6,25 e 1 a 2 pagato 9,50. Invece per le scommesse e quote under, over Giappone e Croazia abbiamo Come possiamo notare dallo sbilanciamento verso l'under 2,5 pagato solo 1,60 contro i 2,25 dell'over e dalla quota molto bassa sull'under 3,5 a solo 1,19 la posta, i bookmaker propendono per un match con meno di 3 gol. Il nostro pronostico sull'under over di Giappone e Croazia verte sull'over 1,5 che ha pagato 1,38 volte la posta. Eccoci invece ora arrivati alla scommessa combo per Giappone e Croazia. Noi abbiamo deciso di puntare su un 2 più gol che è quotato 4,75 quindi andando a scommettere 10 euro andremo a vincere 47,50 euro. Quindi in soldoni la nostra bet per la scommessa combo sarà vincente solo con la vittoria della Croazia ed entrambe le squadre a segno durante i 90 minuti regolamentari. Questa scommessa paga attualmente la bellezza di 4,75 volte la posta, ovvero un potenziale investimento dal ritorno di ben il 375% sul capitale giocato. Prima di continuare ci tenevo a dirvi che in questo momento i siti, i migliori siti di scommesse AAMS stanno sfornando ogni giorno ottimi bonus per scommettere sui mondiali 2022. Quindi per questo motivo vi invito ad andare a guardare sulla nostra pagina dedicata, nel nostro sito ovviamente, la nostra pagina dedicata alla sezione bonus scommesse mondiali. Per accedervi ci sono due modi. Il primo è andare direttamente su questa pagina del nostro pronostico e cliccare sulla sezione bonus scommesse mondiali, mentre il secondo modo è cliccare il link che trovate in descrizione che vi rimanderà direttamente a quella pagina lì. Prima di continuare vi ricordo anche che se volete tenere il bonus di SNAI da 325€ dovete cliccare sul primo link in descrizione. Ora vi mostro come fare. Se siete la PC dovete scorrere il video, cliccate sul primo link in descrizione, dopodiché vi si aprirà questa pagina. Ora cliccate su avanti e compilate i campi richiesti. Se invece siete a cellulare dovete premere il pulsante all'alto a destra. Poi cliccate sul primo link in descrizione, vi si aprirà questa pagina, cliccate su avanti e compilate i campi richiesti. Vi ricordo inoltre che tutti i bookmaker presentati nel nostro canale sono legali al 100% e in possesso di licenza rilasciata dall'agenzia Dugani Monopoli che ne garantisce sicurezza e affidabilità. Bene, passiamo ora alla seconda partita di oggi, ovvero Maracco-Spagna. Perdendo contro il Giappone, la Spagna ha evitato di affrontare la Croazia agli ottavi, ma soprattutto il Brasile nell'eventuale quarto di finale. Riusciranno però a battere questo Marocco autentica sorpresa di Qatar 2022? Ecco, ora andiamo a descrivere la partita di oggi quindi. Da una parte troviamo il Marocco di Holiday Regagui che ha vinto con merito il gruppo F, superando in classifica la Croazia e il Belgio con 7 punti, frutto di 2 vittorie e un pareggio. Ha siglato 4 reti e ne ha subito solo una. Dall'altra parte invece abbiamo la Spagna guidata da Luis Enrique che è arrivata a seconda nel gruppo E grazie a una vittoria, un pareggio e una sconfitta, frutto di 9 gol fatti e 3 subiti. Possiamo notare subito che il Marocco ha una difesa blindata con un solo gol subito in 3 partite, mentre la Spagna ha segnato in media 3 gol a partite, anche se 7 nella gara d'esordio contro il Costa Rica. Per quanto riguarda le quote del passaggio del turno tra Marocco e Spagna, abbiamo il Marocco quotato 4 e la Spagna a 1,25. Gli Spagnoli sono ultra favoriti per i passaggi e quarti con una probabilità stimata di passaggio del turno del 80%, contro il 25% del Marocco. Il 5% in più è l'agio applicato dal bookmaker. A nostro avviso le quote sono sbagliate e per quello che si è visto in campo finora, quindi noi cerchiamo di sfruttare questo potenziale errore andando a vettare sul passaggio e quarti del Marocco pagato ben 4 volte la posta. Quindi il nostro pronostico per il passaggio del turno verte sul Marocco. Per quanto riguarda le scommesse quote 1x2 abbiamo Marocco vincente a 6,75, pareggio a 3,90 e Spagna vincente a 1,55. Il nostro pronostico sulla lavagna 1x2 tra Marocco e Spagna sta sull'1x, ovvero doppia chance vittoria Marocco o pareggio nei tempi regolamentari piazzata a 2,40. Per quanto riguarda il pronostico risultato esatto di Marocco e Spagna, analizzando attentamente le due compagini e le quotazioni sul mercato del risultato esatto di SNAI abbiamo deciso di puntare su queste tre possibilità 1x1 pagato 7,75, 1x0 pagato 14 e 2x1 pagato 22. Per le quote Under-Over abbiamo Under-1,5 a 2,95 e Over-1,5 a 1,35 Under-2,5 a 1,65 e Over-2,5 a 2,10 Under-3,5 a 1,21 e Over-3,5 a 3,75 Come possiamo notare, dallo sbilanciamento verso l'Under-2,5 pagato solo 1,65 contro i 2,10 dell'Over e dalla quota molto bassa sull'Under-3,5 a solo 1,21 volte la posta i bookmaker propendono per un match con meno di 3 gol Il nostro pronostico verte sull'Over-1,5 pagato 1,35 volte la posta Passiamo ora alla scommessa combo della partita di oggi tra Marocco e Spagna Noi abbiamo deciso di puntare su una doppia chance 1x più gol Quotata 4 Quindi andando a puntare 10€ andremo a vincere 40€ La nostra bet sarà vincente quindi con la vittoria del Marocco o il pareggio ed entrambe le squadre a segno durante 90 minuti regolamentari Questa scommessa paga attualmente la bellezza di 4 volte la posta ovvero un potenziale investimento da ritorno di ben il 300% sul capitale giocato Prima di terminare il video vi voglio ricordare che se volete ottenere il bonus di Golbet da 330€ dovete cliccare sul secondo link in descrizione Ora vi mostro come fare Se siete da computer dovete scorrere il video cliccare sul secondo link in descrizione dopodiché vi si aprirà questa pagina ora cliccate su registrati e compilate i campi richiesti Se invece siete da cellulare dovete premere il pulsante in alto a destra dopodiché cliccate sul secondo link in descrizione vi si aprirà questa pagina ora cliccate su registrati e compilate i campi richiesti Per oggi è tutto se ti è piaciuto questo video ti invito ad iscriverti al canale attivare le notifiche cliccando sulla campanella e condividere il più possibile in modo da far vincere anche i tuoi amici Buone scommesse